salve a tutti sono francesca la fidanzata del josephs del josephs che proprio non vuol dire niente capisci ma questo che cos'è un cane quello che cos'è è la versione robotizzata di un cane si esatto no telecamera telecamera che devi fare questa è la telecamera che viene usata per la cosa effetto cinema si mamma mia aspetta ce n'è uno la coprimi 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 e muore lei io dico coprimi e lei muore dettagli no non è un dettaglio non esiste non esiste non esiste no ragazzi dove sono non ci sono dove sei dove vai tu ora ti seguo ti vengo a prendere continua a correre perché ti vengo a prendere io non so correre ti taglio le gambe ti taglio le gambe io nel frattempo ti corro dire ti taglio le gambe vieni qui c'era una persona vieni qui me l'hai fatta uccidere ma se io adesso non sento non so mai quando sta arrivando l'uab amichevole ok quello mi sta sparando qua c'è anche la mimetica quella potente me l'hai fatta uccidere ma che camber in fronte ti ho preso senso a festa per i camber però mamma mia moriamo entrambi una fianco all'altro non deve morire in un'ingeme no no ma perché il nostro destino è morire in un'ingeme no si fidati è così però vedi se mi proteggi se mi proteggi devo vedere chi protegge a me tu devi proteggere me ma ti levi ah non sei tu vendetta vera non andrò in galera no che vendetta vera anche tu così no sei stata una volta in no 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 tu puoi stare da un millimetro da me sei da un millimetro da me sei morto sei morto sei morto sei morto sei morto quindi ragazzi io vi saluto vi ringrazio di aver visto questo video e alla prossima ciao saluta anche tu ciao ciao ciao